L'uomo è un mendicante che crede di essere un re, è la parafrasi e la parabola di una vita. La mia vita da Presidente della Regione, che è stata una vita in cui era l'attenzione delle persone, circondato da affetto, da stima, da servizi, è una vita da detenuto che diventa mendicante tra la miseria, la povertà, la sofferenza e il dolore. E però, come mi ha ricordato il mio amico detenuto Orgastolano, anche la vita in carcere, una vita che merita di essere vissuta, perché la vita si alimenta vivendola e le si dà valore offrendola e donandola alla gente. Io in carcere, in un mondo difficile, ho trovato tante persone che hanno avuto la forza e il coraggio di donarmi il loro amore, la loro umanità e anche un pezzo della loro vita. Per questo credo che questo mio libro serva a testimoniare una realtà che è una realtà che non è conosciuta e che è una realtà che deve essere attenzionata dall'opinione pubblica per quella che è una realtà vissuta da persone che hanno sentimenti, che hanno storie, che hanno un'anima, che hanno delle famiglie. Una realtà che, seppur difficile, è un pezzo della nostra società e va difesa e salvaguardata. Sono lo stesso di sempre, nel senso che mi piace vivere, mi piace stare in mezzo alla gente, abbracciare, che si commuove quando tante persone lo abbracciano e ti ricordano una storia, un avvenimento, un'occasione. E' una persona che però ha fatto 5 anni di carcere, che ha maturato la possibilità di poter parlare con se stessa e con la propria anima che mai era riuscito a fare prima perché non aveva trovato il tempo e forse non aveva avuto in modo di cercarlo questo tempo. Ed è una persona che vive nella consapevolezza che c'è tanta gente che merita di essere apprezzata per una vita semplice ma una vita ricca di valori. Ed è quello che credo manchi oggi alla politica. Una politica disattenta che piuttosto che guardare a una bandiera, a un'idea, a un valore, rincorre un mercato e spesso il mercato finisce col privilegiare quelli che hanno di più e penalizzare quelli che hanno di meno. Io credo che il totocuffaro di oggi è il dovere di dire queste cose, che pensa, perché se qualcuno insieme a me vorrà dirle saremo in tanti e conderemo di più.